Questa è la Vango Soul 200, una tenda da trekking veramente economica e anche piccola e abbastanza leggera. Adesso insieme ne vediamo pregi di fette all'interno della recensione completa. Il montaggio della tenda è molto semplice, non dovremo fare altro che stendere il telo interno e iniziare a montare la paleria insendola negli appositi occhielli. Successivamente possiamo aggiungere il telo esterno finendo di picchettarlo, aggiungendo anche in caso di necessità tutti i cordini per tirare la tenda. Vediamo la tenda nella parte esterna facendoci un giro attorno, iniziamo dalla parte anteriore dove troviamo la porta, che però ci troviamo a parlare dopo. Sulla parte laterale di sinistra troviamo una prima presa d'aria, una presa d'aria abbastanza grossa, non è l'unica. E poi troviamo anche il suo cordino da andare ad aggiungere, ad attirare in momento in cui magari c'è tanto tanto vento. Tutta la parte laterale poi, continuando, è veramente molto spoglia. È molto semplice, molto spoglia, non c'è praticamente nulla, però ci fa subito capire che questa è una tenda a tunnel. Infatti vediamo come scende gradualmente fino alla parte posteriore. Parlando proprio della parte posteriore, anche questa è abbastanza semplice. Troviamo tutta una parte per andare a tirare la tenda, proprio per darle la sua classica forma a tunnel. Qua sotto, nella parte inferiore, troviamo una presa d'aria. Quindi abbiamo una presa d'aria sia nella parte alta, sia nella parte bassa della tenda. Cosa molto interessante, poi tutte le sue cuciture, perché vediamo che sono doppie e nei punti in cui c'è davvero tanta pressione c'è anche un rinforzo. Quindi sicuramente dal punto di vista delle cuciture Vangola ha pensato molto bene come tenda. E poi troviamo tutta la parte finale dove proprio andranno i nostri piedi una volta che dormiamo. Tornando infine sulla parte laterale, in questo caso di destra, anche qua è molto semplice. Non c'è praticamente nulla, se non i classici cordini per andare ad attaccare nella parte inferiore. E poi nella parte anteriore invece troviamo anche qua una finestra. Una finestra per far uscire anche qua la condensa, farla un pochino reare con il classico cordino da andare a tirare per poterla stabilizzare ulteriormente. Tenda, come vi dicevo, molto semplice, perché adesso siamo già tornati sulla parte anteriore. Adesso vediamo in sé la porta. Parlando dunque della porta, innanzitutto come abbiamo visto troviamo solamente una nella parte anteriore. Quindi questo può essere un po' un contro, decidetelo voi. Sicuramente di notte quando magari siamo in due all'interno della tenda, se uno deve uscire, ci si dà un pochino fastidio. Parlando della porta in sé, questa ha un'apertura a mezzaluna, non si apre completamente. Però possiamo sicuramente farla solo nel momento in cui dobbiamo andare a chiuderla. Troviamo una cerniera che lavora abbastanza bene. L'unica cosa è che troviamo un singolo cursore. Diciamo che due cursori sarebbe stato sicuramente meglio. Una volta poi aperta la porta, lo spazio all'interno nell'abside è veramente poco. Per intenderci, se dobbiamo tenere all'interno due zanni, magari da 50 litri, con gli scarponi e tutto il resto, diciamo che è veramente difficile riuscire a far starci tutto. Anche perché poi lo vediamo, la parte interna della camera è comunque abbastanza piccola. Nella parte esterna sicuramente non riusciremo a cucinare nel momento in cui magari dovesse piovere e quindi dovremmo avere necessità di comunque cucinare. Ecco che l'abside forse è la cosa che pochino meno mi è piaciuta di questa tenda perché è veramente molto molto piccolo. Qualche centimetro in più non sarebbe guastato. La parte interna in sé della tenda, quindi la seconda apertura, è un'apertura anche lei fatta come la parte esterna. Dunque è una zip a mezzaluna che comunque ci dà modo di poterla aprire e anche di poterla richiudere così da evitare che svolazzi. Parlando della parte interna della camera, oggi non posso entrare per raccontarvela perché inizio subito parlandovi delle sue dimensioni. Come dicevo, la camera interna è veramente piccola. È una camera interna dove in due ci si sta, i materassini ci stanno. Il problema è che praticamente in piedi non ci si sta, ma anche seduti come sono in questo momento gambe incrociate, difficilmente. Parliamo di una tenda che nel punto più alto è alta 90 centimetri ed ecco che se siete particolarmente alti non riuscirete a starci neanche a gambe incrociate. Con i materassini poi meglio non parlarne. È una tenda sicuramente pensata solamente per infilarsi dentro e dormire. Basta, cioè proprio la vivibilità è minima. È una tenda però che dal suo punto di vista, una volta che andiamo dentro a dormire, diciamo che non dà problemi, perché comunque anche se la parte inferiore è un pochino più bassa, ci si va a mettere i piedi, dunque non sorgono problemi. Una cosa che mi piace di questa tenda però sono i suoi materiali. Innanzitutto è impermeabile 3000 colonne d'acqua sia sul telo esterno sia sul telo interno. Materiali abbastanza durevoli, ma soprattutto quello che mi piace molto è il telo interno della camera, perché troviamo un telo che va a scurire molto, dunque anche al mattino, anche quando inizierà a sorgere il sole, la tenda sarà comunque scura e riusciremo a dormire senza avere il problema che i raggi illuminano la tenda e ci sveglino. Da questo punto di vista sicuramente è una soluzione che ho particolarmente apprezzato, come ho molto apprezzato anche le tasche poste nella parte interna. Tasche che ne troviamo due, una a destra e una a sinistra per entrambi gli occupanti, abbastanza larghe dove ci sanno davvero tanti oggetti. Parlando di condensa invece, come abbiamo visto di prese d'aria ce ne sono ben tre, sono poste anche nei punti giusti, quindi diciamo che di notte la condensa è abbastanza normale, non è sicuramente una tenda super areata, ma non abbiamo nemmeno tanta condensa che ci possa disturbare. Oltretutto la tenda è doppio telo, quindi sicuramente questo giova a suo vantaggio. Parlando infine di cuciture, queste sono abbastanza nella norma, fatte bene, nei punti in cui ce ne ha bisogno sono doppie, alcune sono termosaldate, quindi diciamo che dal punto di vista delle cuciture è sicuramente una tenda che durerà abbastanza nel tempo. Ecco che magari la parte interna della tenda è sicuramente quella su cui bisogna ragionare di più nel momento in cui vorremmo acquistarla, perché come vi dicevo c'è da fare un ragionamento sull'altezza anche degli occupanti, perché sono un metro e novanta, diciamo che veramente ci sto al pelo, e soprattutto sulla vivibilità, perché state cercando una tenda dove poter stare dentro magari qualche ora se piove, comunque poter fare qualcosa all'interno come può essere banalmente cambiarsi i vestiti, ecco in questa tenda risulta veramente molto difficile. Arriviamo dunque alle conclusioni per questa Vangosol 200, e inizio subito a dirvi anche il suo peso, perché parliamo di una tenda che pesa due chili e uno. Una tenda che dà delle dimensioni abbastanza piccola, veramente mi ha stupito tanto è piccola quando riusciamo a compattarla all'interno della sua custodia. Una tenda che personalmente vi consiglio se state cercando una tenda con cui iniziare a fare delle notti all'aperto, ma non state comunque pensando di fare magari dei trekking a lunga percorrenza. È una tenda secondo me abbastanza principianti, perché come dicevo si avvicina al mondo di passare le notti all'aperto, ma non ve la consiglierei per dei trekking dove dovete dormire tanto tempo all'interno della tenda, perché lì diciamo che avere un pochino più di spazio sia di stivaggio sia di possibilità di muoversi all'interno è fondamentale. Come prezzo, visto che ve l'ho parlato all'interno della recensione, stiamo anche sotto ai 100€, dipende il sito dove la cercate, ma la trovate tranquillamente anche sotto ai 100€. E visto questo suo prezzo veramente molto competitivo, come tenda per iniziare, secondo me è davvero ottima. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stata esauramente esattiva anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!